In caso di approvazione della mozione Formentini, Sabrina Decardo del Masto delle Vedove, Porta Pelle, Procopio, Boldrini, Procce d'Alto numero 139, la mozione del Masto delle Vedove ed Alto numero 177, la sortera assorbita. Come votazione della mozione Formentini, Sabrina Decardo del Masto delle Vedove, Porta Pelle, Procopio, Boldrini, Procce d'Alto numero 139, su cui il governo si è rimesso all'assemblea. Siamo aperta la votazione. Siamo aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva con 300 milioni di parole per il resto del Masto delle Vedove. Grazie. 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 Grazie.